bentornati sul canale di non aprite questo blog allora oggi siamo qua per fare la recensione di aterrados o terrorizzati il film è un piccolo gioiello e nonostante ciò solo noi che seguiamo l'horror quindi noi di non aprite questo blog voi che siete i nostri follower e seguite anche altri siti insomma vi documentate solo noi dell'ambiente insomma conoscevamo questo film e aspettavamo il suo arrivo ci aspettavamo che gli fosse riservato un trattamento migliore e invece questo film che è un piccolo gioiello viene preso e messo buttato nel carlerone di netflix e io dico ci sono fior fior di film di merda che vengono presi mandati al cinema fatta una pubblicità la madonna vengono fatti dvd steelbook metalbook edizioni super speciali e questo film qua va su netflix allora da un certo punto di vista sono contento perché lo possono vedere tutti gli abbonati netflix sono tanti un bel film finalmente e va bene così dall'altro punto di vista finalmente netflix ha un film decente escludendo i film storici no perché ogni tanto vengono caricati dei film del passato come shining ma come film nuovi ho fatto un rutto al salmone pazzesco maledetto sushi i film nuovi fanno tutti schifo soprattutto quelli prodotti lavoro cioè poi ci sono poi un giorno farò un video per parlare di tutto questo meccanismo di netflix e della qualità dei film e del perché fa schifo però aterrados è un gran film ed è finito dentro il calderone quindi il film è argentino aterrados è argentino ed arriva su netflix con un altro nome e voi direte beh è normale no perché già non è facile dire aterrados che già lo starò pronunciando malissimo nonostante per metà io sia sudamericano va bene cambia cambia il titolo terrorizzati non è neanche brutto ma poi tu schiacci play e il film è in spagnolo con i sottotitoli in italiano adesso io sono contento perché quando posso li guardo anche in lingua in film originale i film in lingua originale li guardo volentierissimo però non capisco il motivo di cambiare il titolo per attirare poi però uno si aspetta di vedere il film in italiano io comunque vi consiglio di guardarlo anche coi sottotitoli perché non si legge tantissimo non è una roba che ti stanchi particolarmente e vale veramente la pena vale veramente la pena uno dei pochi film che fa un po paura adesso non dico che faccia proprio paura però veramente sa giocare la suspense e ha soprattutto ha tutta una serie di momenti di paura che non sono i classici jumpscare dove praticamente sta succedendo qualcosa no a un certo punto ti spaventano con un cazzo di colpo cioè che può essere una porta che si sbattene quello non è avere paura quello è essere presi di soprassalto non vuol dire un cazzo invece questo film qua crea delle situazioni di spavento proprio dove malente dove tu vedi un vedi c'è una sorta di boogeyman di uomo nero perché il film parla di case infestate di presenze molto carino molto carino e come viene trattato il tema delle presenze a me per dire questo film qua per come tratta le presenze piace più di the conjuring e secondo me è fatto meglio the conjuring è molto più romanzata la cosa è molto più plasticosa è molto più fake questo è un film che tratta il mondo del del sovrannaturale delle case infestate in un modo molto più simile a quelle che possono essere racconti di persone che sostengono di aver visto queste cose adesso io ovviamente non credo a niente di tutto questo perché ragazzi non sono un credulone i fantasmi non esistono o perlomeno non esistono come come li concepiamo noi che che fanno sbattere le porte per far paura a noi capito poi che ci possono essere delle entità che ultraterrene chi può dirlo se però di certo non si mettono il lenzuolo e vanno invece questo film qua tratta proprio il mondo del del soprannaturale un po come come se lo trattano quelli che ci credono veramente quindi non ci sono gli jumpscare come in the conjuring ok quindi la paura avviene in un modo molto più costruito intelligente con meccanismi molto più intelligenti del far sbattere qualcosa o far saltare fuori qualcuno con un semplice gioco di montaggio veloce eccetera il regista non aveva fatto altri horror mi sembra o comunque aveva fatto un paio di film che non si è filato nessuno lì in argentina ha un nome che sicuramente si chiama demian rugna a voi ve lo vedete il premio oscar per il miglior film dell'anno va a demian rugna secondo me il nome di un regista fa volete mettere con il miglior film va a guglielmo del toro oppure quentin tarantino mica demian rugna e quindi secondo me questi ha visto demian rugna a terados boh non gli hanno dato credito a sto ragazzo qua intanto però il film è bellissimo secondo me dopo questo film sicuramente la sua vita sarà più semplice come regista non semplicissima perché a quanto pare però il pubblico lo ripagherà piacerà a tutti questo film piacerà a tutti perché è fatto bene i film fatti bene piacciono quasi a tutti tranne che a i rincoglioniti che dire che dire ah sì ecco non vi racconto un chiede la storia perché vi ho detto parla di case infestate di di presenze però vi posso dire che ci sono delle trovate bellissime non vi spoilerò nulla però c'è un momento in cui uno dei protagonisti ha un attacco di cuore si sente male e tutto questo accade perché lui è terrorizzato e questo è abbastanza normale no perché se io in casa mia iniziassi a vedere cose che si spostano mostri dappertutto cose innaturali forse avrei un piccolo tracollo psicologico no avrei paura una paura costante poi forse inizierei ad avere la tachicardia forse inizierei ad avere degli sbalzi al cuore forse uno potrei avere un infarto per la paura queste sono le cose reali che accadono nella vita reale e che nei film sembra quasi che non accada mai io non lo so come sia possibile che uno si trovi davanti un assassino con moto sega quello quell'altro e insomma quello che deve fuggire quello che si deve salvare non ha il terrore negli occhi non ha attacchi di panico non ha infarti e non è realistico infatti uno dei miei film preferiti da questo punto di vista è non aprite quella porta dove la ragazza praticamente strilla come una psicopatica per 40 minuti perché perché è inseguita da un mega ciccione con una motosega la faccia fatta di pelle cucita di gente che ha ammazzato è così che reagisce una persona a queste cose si caga sotto il cervello va in tilt va in tilt totalmente e quindi bellissima la trovata insomma trovata la ricerca del realismo la ricerca di di rugna il mitico rugna mi auguro che sentiremo parlare ancora di lui nel mondo dell'horror perché secondo me è bravo continua su questo genere quindi film molto bello guardatelo questo è tutto per la recensione di atterrados ma se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video se volete potete usare i commenti sono lì apposta per per scrivermi cosa ne pensate di atterrados se mettete spoiler avvisate nel commento per favore e basta questo è tutto ci vediamo al prossimo video